Buona giornata amici, sono particolarmente contento di riprendere il rapporto con voi per la rassegna stampa, questa volta su un canale televisivo come Fano TV per relazionarvi sulle notizie del giorno a partire come sempre dal resto del Carlino e dal Corriere Adriatico ma prima di questo passiamo subito alle notizie del Santo del Giorno e del Meteo Oggi è Santa Cristina da Bolsena, una santa che è stata martirizzata sotto la persecuzione di Diocleziano nel IV secolo ed è interessante così conoscere la storia e la vita di queste santi che nelle nostre parti di solito non si conoscono e passiamo subito al meteo e vediamo che oggi è una bella giornata, una bella giornata sulla costa e sull'entroterra vediamo che sulla mappa c'è solo sole quindi sarà un piacere di trascorrere una giornata al mare come ci conferma poi il nostro bagnino Edoardo di Porto Novo Adesso un attimo abbiamo perso Edoardo magari si è perso nella sua concessione sappiamo che è andato in barca lungo la costa, una piccola barca ma è una barca così che ci permette di vedere una costa molto molto bella con un altrettanto bello entroterra quindi vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento Magari cominciamo con i giornali e dopo lo recuperiamo dopo? Sì, magari cominciamo con la rassegna stampa dei giornali poi magari recuperiamo dopo Edoardo Partiamo subito con la prima pagina del resto del Carlino sulla pagina di Pesaro vediamo che i vaccini ora è boom di prenotazioni il trend è in aumento e ieri dopo l'entrata in vigore delle nuove restrizioni 3.000 marchigiani si sono messi in fila quindi questa dovrebbe essere una buona notizia ci sono anche comunque polemiche politiche la Morani del PD dice che Acquaroli deve ufficializzare i dati invece di strizzare l'occhio ai Novax e per quanto riguarda invece la sanità privata i dipendenti di Coscare sono sul piede di guerra perché si sentono almeno sottopagati e il comune di Pesaro vende l'ex concordia via all'asta da mezzo milioni per quanto riguarda Fano invece Piazza Marcolini si rifà il look ci sono state delle polemiche poi le vedremo dopo e intanto a Pesaro ora il circo debutta agli orti giuli vediamo subito sulla sanità sulle pagine interne del Carlino effetto Green Pass 400 prenotati in 24 ore ma adesso mancano le dosi fino a fine mese insomma ora la gente vuole vaccinarsi ma guarda caso mancano le dosi le nuove limitazioni sono state imposte dal decreto in vigore dal 6 agosto convincono questi i ritardatari però le date slittano ad agosto in attesa di nuove forniture l'assessore alla sanità Salta Martini dice che nelle Marche c'è un vasto da 2.000 a 3.000 appuntamenti scettico a Quaroli meno ideologie nelle scelte insomma bisogna essere molto pragmatici Biancani i politici diono l'esempio ci vuole la certificazione anche in Consiglio regionale se chiediamo ai cittadini alle attività di avere il Green Pass come minimo dice Biancani dobbiamo farlo anche noi politici Green Pass la rabbia dei baristi se da una parte il Green Pass tutela un po' i cittadini però suscita la reazione del mondo economico la rabbia dei baristi e dei ristoratori e adesso serve chiarezza sui controlli i titolari dei locali si sentono nuovamente colpiti ma c'è anche chi guarda il bicchiere mezzo pieno poteva andarci peggio dicono ora tutti si aspettano direttive chiare sull'applicazione delle regole soprattutto su chi farà i controlli se sono gli stessi esercenti che devono inibire l'accesso al loro locale interno del loro locale a chi non ha il Green Pass oppure se questo deve essere lasciato ai controlli delle forze dell'ordine questo è un fatto da chiarire meno preoccupazioni in palestra dicono noi siamo pronti e le palestre sappiamo è stato uno di quei settori che sono stati più penalizzati dal Covid asta da mezzo milione per l'ex Concordia siamo sempre a Pesaro in via Foscolo è possibile una edificazione per residenza di millimetri quadrati e l'amministrazione vede anche negozi, uffici, fabbricati colonici a Montecchio ufficialmente è partita l'asta per l'ex bocciodromo di via Ugo Foscolo il Comune ha pubblicato il bando per l'alienazione di nove beni immobiliari di proprietà del patrimonio del Comune di Pesaro ci sono garage, negozi, uffici, fabbricati colonici il consigliere Redaelli rilancia l'operazione San Benedetto dopo i primi finanziamenti l'associazione tocca il MUR chiede però una progettazione unitaria per tutta l'area e vuole partecipare al confronto tra Comune, Regione e Asol il finanziamento statale è con i fondi Pinqua questa è una risorsa che utilizzano un po' tutti i Comuni che hanno pronti i progetti e lo farà anche, come vedremo, il Comune di Fano in questo caso i fondi Pinqua vengono utilizzati per la parte dell'edificio che dà sul corso e ha riattivato il sistema Sanità privata rivolta lavoratori sottopagati e qui siamo appunto sulla notizia che abbiamo anticipato in prima pagina la protesta è a Villa Fastigi dei dipendenti della Coscare in busta paga 400 euro in meno rispetto ai colleghi del pubblico insomma una protesta che viene così inalberata con cartelli ed evidenziata con delle manifestazioni Pesaro, capitale della cultura, trova degli alleati non presenta la sua proposta singolarmente come Comune ma cerca di coinvolgere molti Comuni dell'entroterra è questa una carta vincente perché insomma l'Unione fa la forza e poi i finanziamenti, se arriveranno saranno così suddivisi e compartecipati con tutte le altre realtà locali anche Fan e Urbino sostengono la sfida per il 2024 così si rappresenta l'intero territorio e vediamo ora le notizie di Cronaca fa l'assicurazione dell'auto online ma scopre che è carta straccia gira per un anno senza polizza poi i vigili svelano la truffa e poi vediamo ancora la droga sniffa cocaina, perde il controllo è un uomo, un 32enne albanese che assumendo la droga ha avuto delle allucinazioni vedeva i mostri e questo ha fatto sì che andassi in escandescenze magari reagendo anche quando sono intervenuti i carabinieri però insomma questi l'hanno bloccato l'analisi del sangue ha rivelato l'assunzione di cocaina e la sostanza l'ho reso incapace di intendere non sarà denunciato ma solo segnalato ed ora vediamo la pagina di Fano vediamo la pagina di Fano vediamo come c'è una iniziativa che ha assunto il comune il lavoro del futuro fabbricare antichi torchi Chiara Tonucci di 43 anni si è inventata una nuova attività una stamperia d'arte e che è stata visitata anche dal sindaco Massimo Seri sono venuti anche gli operatori dell'Accademia di Brera una stamperia d'arte ecco perché appunto l'Accademia di Brera si sta interessando a questa iniziativa Cimarra via libera della Giunta per affidare il progetto Gara da giudicare entro l'estate intanto di Scoverde della provincia anche per lo studio sulla complanare sud questa è una notizia che poi vedremo anche sul Corriere Adriatico a Marotta torna la festa della tratta appuntamento all'alba con la sciabica e i pescatori e poi 31 cose da fare a Mondolfo e a Marotta il comune ha così partorito una guida turistica che è stata presentata ieri dal sindaco Nicola Barbieri e dall'assessore al turismo Davide Caporaletti e poi c'era anche il consigliere con delega alla cultura Enrico Sora insomma una guida interessante per 31 iniziative così da utilizzare in senso turistico e vediamo ora se il collegamento con il nostro bagnino Edoardo può essere ristabilito ancora non lo abbiamo speriamo di non perderlo continuiamo dunque la nostra rassegna stampa sulla pagina di Urbino l'Ateneo vuole incoronare Roberto Mancini il CT azzurro potrebbe freggiarsi della laurea honoris causa il rettore Calcagnini dice l'impulso è arrivato dalla nostra scuola di scienze motorie è veramente Roberto Mancini ancora sulla cresta dell'onda sia su Iesi, la sua città natale ma anche su tutte le marche di cui è un testimonial d'eccezione Festival di musica antica ritrova la via di casa a Urbino dopo l'interruzione di 51 edizioni consecutive a causa del Covid e piano piano riprendono le manifestazioni a Fermignano Monsignor Loiudice alla festa del patrono sarà in città per ufficiare la messa in onore di Santa Veneranda per lui ci sarà un riconoscimento speciale la cittadinanza onoraria ebbene lo aveva promesso lo aveva promesso subito dopo la sua creazione a cardinale da parte di Papa Francesco lo scorso anno e ora manterrà la parola lunedì sera Monsignor Augusto Paolo Loiudice sarà a Fermignano per ufficiare appunto questa funzione religiosa a Petriano una trentenne è stata trovata morta il paese è sotto shock ebbene è un'insegnante di 30 anni la donna era molto nota nel paese così come la sua famiglia è stata trovata senza vita dalla madre al rientro di casa probabilmente non c'era più niente da fare e probabilmente si è tolta la vita nuovi lavori in centro nuova pavimentazione ad acqualagna se a fine estate non ci saranno ulteriori restrizioni limitazioni di spostarsi i tanti buongustai che per decenni hanno frequentato da settembre fino a dicembre la capitale del Tartufo troveranno una piacevole novità appunto una nuova pavimentazione a questo punto possiamo passare al Corriere Adriatico partendo sempre dalla prima pagina vediamo il titolo di apertura effetto Green Pass boom di vaccini negli ultimi tre giorni sono state 18.000 le prenotazioni solo ieri 4.500 e tra i ricoveri quasi tutti erano senza scudo l'epidemiologo è la zona bianca più positivi pochi in ospedale fiducia per agosto ma restiamo cauti vediamo gli altri richiami tornano le candele non sono in spiaggia ci sarà pure gradara a Pesaro poi assicurazioni online risparmio con truffa monito della polizia questo è un articolo molto interessante perché è lo stesso commissariato che mette in guardia i cittadini e poi l'altra notizia di cronaca sniffa la cocaina e assali sanitari creduti mostri stadi e pala scoppia il caso delle capienze troppo basse un altro richiamo marcia a tappe per la capitale della cultura della città di Rossini e allora riprendiamo il discorso della sanità da Novax a pronti per la dose effetto Green Pass per 18.000 c'è una impennata delle prenotazioni dei vaccini già da lunedì scorso ieri il record delle richieste 4.500 in tutta la regione e si parterà con le nuove somministrazioni appena conclusi i richiami mentre i casi sono in risalita c'è una interessante tabella su questa pagina del Corriere Adriatico per riassumere così tutta la situazione delle Marche le vaccinazioni dal 19 al 23 luglio sono state 13.232 i ricoveri 209 i posti letto occupati sono 3 1,4 è il tasso di occupazione 21 i posti letto occupati la soglia per scivolare in zona gialla il 10% e 951 i posti totali in area medica arrivati a 1350 nella fase di spicco 14 posti letto occupati di cui 4 in semi intensiva 1,5 il tasso di occupazione e 143 sono i posti letto occupati nella soglia per scivolare in zona gialla al 15% un agosto in bianco nelle Marche tranquilli con i dati sui ricoveri chi va in ospedale era senza scudo e lo scudo ovviamente è la vaccinazione quindi mi raccomando di cercare di tutelare se stessi ma anche gli altri palestre e ristoranti e il QR code in tasca per tornare a vivere dal 6 agosto green pass e controlli scandiranno le giornate soltanto i ragazzi minori di 12 anni gireranno liberamente e da 12 anni in poi comincia un po' la vaccinazione insomma l'impulso a vaccinarsi dosi solo al 20% dei 12-15 anni è un rebus poi il ritorno a scuola va meglio con gli studenti delle superiori hanno aderito alla profilassi il 69% e questa è una buona percentuale e vediamo qual è la fascia la profilassi tra i giovani da 12-15 anni la prima dose è stata così assunta da 11.174 unità il richiamo solo da 2.721 il target istad e 55.321 l'adesione percentuale della prima dose è il 20,20% della seconda il 4,90% della fascia leggermente superiore 16-19 anni 28.319 hanno assunto la prima dose 15.199 il richiamo 41.049 il target istat l'adesione della prima dose è stata del 69 così come abbiamo detto e l'adesione alla seconda il 37% e vediamo ora la notizia delle green pass che sta sollevando sollevando veramente delle reazioni piuttosto così vehementi green pass quanti dubbi app e tecnologia in aiuto ma solo per certi target tutte le perplessità dei gestori dei locali il nodo dei bar nei centri commerciali le prenotazioni online una soluzione riservata a ristoranti di un certo livello in primis c'è il nodo controlli come abbiamo detto del pass in capo al gestore ma anche quali regole sono previste per bar e ristorantini interni ai centri commerciali sono ancora tutti aspetti da chiarire dovranno esserlo entro il 6 di agosto scuola chi non è vaccinato non deve sedere in cattedra il dirigente del liceo scientifico Marconi Rossini ha le idee chiare su questo Rossini dice sono abbastanza fiducioso per la ripresa scolastica abbiamo imboccato una strada irreversibile non credo che ci ritroveremo con scenari simili a quelli dello scorso anno è chiaro che dobbiamo conviverci e ci possiamo convivere solo e solamente vaccinandoci il più possibile questa appunto la posizione del preside Rossini le candele tornano e non solo al mare ci sarà pure gradara al lavoro per San Lorenzo il 10 di agosto con un occhio anche al Green Pass ordinanza disciplina l'orario massimo delle serate in spiaggia Pesaro l'intera riviera illuminata il 10 agosto saranno illuminate le spiagge libere in concessione da Baia Flaminia a Fosso Seiore con la novità delle fiammelle lungo l'isola pedonale di Ponente è così che si mette in moto la grande macchina organizzativa di candele sotto le stelle un'iniziativa principe della città di Pesaro e vediamo ora le notizie sulla capitale della cultura di cui abbiamo richiamato prima lo spirito Pesaro si candida a capitale italiana per il 2024 guardando ai 50 comuni della provincia Ricci e Vimini è una scelta strategica per il racconto dell'identità del territorio e questa candidatura se l'anno scorso non ha così beneficato Fano questa volta potrebbe farlo di risulta un po' per tutto il territorio non solo Pesaro come dicevo prima ma anche gli altri comuni a Villa Fastigi il sit-in dei lavoratori Cost Care vogliamo essere equiparati ai colleghi della sanità pubblica hanno dichiarato e al loro fianco ci sono anche sindacati non sono di serie B hanno detto i rappresentanti dei lavoratori stanno rivendicando i loro diritti assicurazioni online risparmio con truffa controllata dalla polizia una donna scopre il raggiro e non è l'unica è convinta di essere in regola con l'assicurazione questa donna scopre di essere stata truffata e i casi sono diversi tanto che le forze dell'ordine lanciano un monito per mettere in guardia i consumatori giriamo ancora pagina sul Corriere Adriatico e diamo un'occhiata a quella di Urbino Mancini Laura Adonorem esempio di valori positivi l'università il conferimento per meriti sportivi a breve ci sarà la cerimonia ufficiale educatrice di asilo nido trovata morta in casa la scoperta della madre il paese sotto shock un gesto di autolesionismo la vittima trentonenne di Gallo lavorava a gradare a Fano campeggia la notizia dell'approvazione in giunta dello studio di fattibilità di Piazza Marcolini Piazza Marcolini sarà un giardino Fano diventerà la città più bella dichiarato ieri il sindaco presentando il progetto alla stampa sull'arredo di Piazza Marcolini via tutte le auto ma si cercheranno altre soluzioni di sosta per i residenti la novità annunciata ieri è stata quella di trovare parcheggi riservati non solo in via Mura Sangallo ma anche in via Malvezzi il progetto è particolarmente interessante non è particolarmente laborioso oppure fantasioso è semplice ma efficace un'oasi di pace all'interno del centro storico ovviamente in questo momento la pace è un pochino inquinata dalle proteste che si sono evidenziate dai residenti soprattutto anche dalle associazioni di categoria a cui danno manforte oggi sul giornale la Lega e i 5 Stelle dice non c'è una visione unitaria fermatevi dice la Lega revocate questo progetto e i 5 Stelle manca un piano complessivo di tutto il centro storico in modo che tutti gli interventi non siano realizzati a spot ma siano legati secondo una visione complessiva un piccolo incidente per fortuna non grave è investito papà col bimbo in bici l'urto da parte dell'auto di una giovane donna ieri è successo nel cavalca ferrovia Baia Metauro e via Fratelli Zuccheri altro scontro in via Enaudi e poi studi per Gimarra fanno sud dopo la decisione della Giunta sono state approvate le delibere per la fattibilità degli interquartieri e la convenzione per la variante in questo modo si conferma la visione d'insieme per liberare Fano dal traffico e poi quella notizia che vi ho annunciato prima un monito da parte delle forze di polizia un ladro si finge idraulico e riesce ad entrare dentro casa ventilando un problema all'impianto idrico così entra dentro casa e poi si approfitta dell'ingenuo o dell'ingenua che l'ha fatto entrare rubando i suoi averi sono stati segnalati colpi di questo genere a Fano a Lucrezia hanno rubato 50 euro nel negozio di pasta fresca quindi la raccomandazione è sempre la solita non fate entrare strani dentro casa anche se hanno tesserini se hanno divise se si mostrano come persone affidabili non fate entrare nessuno dentro casa Valmetauro scompare il Movimento 5 Stelle ma resterà comunque l'anima la candidata Meia all'appoggio del sindaco Bonci e della vice Marcucini è una notizia che interessa Fossombrone dove scompare dice il Corriere Adriatico il Movimento 5 Stelle ma resta l'anima e poi un lutto addio al professore Pedini fu primario e assessore di Fano e di Fossombrone questa mattina si celebreranno i funerali alle 9.30 nella cattedrale di Fossombrone il professor Giorgio Pedini era una persona non solo estremamente competente per quanto riguarda la sua professione ma era una persona dotata di grande umanità e per questo il suo ricordo resterà indelebile nei fanesi nei fossembronesi in tutti coloro che hanno avuto bisogno delle sue cure mi sa che il nostro collegamento con il bagnino salta nella giornata l'abbiamo ripristinato ma mi sa che abbiamo molto pochi minuti a disposizione Edoardo Edoardo ci siamo persi mi dispiace abbiamo pochissimi minuti ci siamo ci siamo buongiorno a voi buongiorno a Portonovo tu sei nella tua barca in questo momento ah guarda stamattina sto remando con mio padre guarda con le barche a remi adesso comunque ti faccio quella mattina noi ci andiamo a allenare con le barche a remi come potete vedere questa è la mia piccola batana vedete con mio padre facciamo le gare con le barche a remi perciò perlomeno un saluto dalla mia dalla mia barchetta come potete vedere oggi una giornata meravigliosa portami a terra babo senti ma tu porti a spasso anche i turisti con la tua barchetta ma qualche volta faccio fare qualche passeggiata con questa bellissima barca vedi questa è la mia batana la mia batana a remi a quattro remi facciamo le gare con le barche a remi questo ci ha permesso di anche di arrivare alla regatta storica di venezia è stato stupendo ho portato le mie quattro barche a venezia è il tuo papà che remi è il mio padre è una bestiaccia adesso ti facciamo vedere mi piaceva salutarvi prima di finire questo collegamento settimanale è stato veramente un privilegio per me grazie ti faccio gli auguri a te Edoardo e anche al tuo papà quindi buona giornata arrivederci aspetta che aspetta un attimo aspetta un attimo un attimo solo che ti saluto andando via aspetta un attimino ciao aspetta un attimo tieni Emma tieni prendici un attimo ok tieni prendici un attimo ci vediamo siamo presto perché dobbiamo chiudere ok un saluto ok ciao ciao arrivederci bene ciao aspetta un attimo ciao aspetta un attimo ciao aspetta un attimo